Ciao a tutti, oggi prepareremo la panna cotta al parmigiano e pere. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono per la panna cotta, panna fresca, parmigiano grattugiato, colla di pesce ammollata in acqua fredda, sale e pepe. Per la composta di pere, pere, burro, zucchero e cannella. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la panna cotta. Mettiamo nel boccale la panna e il parmigiano. Ed azionare i bimbi per 6 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere la colla di pesce ben strizzata, il sale, il pepe ed azionare i bimbi per 4 minuti a velocità 2. Trasferire i bicchieri in monoporzione e riporre in frigo per almeno un'ora. Lavare e asciugare bene il boccale. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, prepariamo adesso la composta di pere. mettere le pere, lo zucchero, il burro e la cannella. Ed azionare i bimbi per 12 minuti, 100 gradi, velocità 1. Trasferire in una ciotola e mettere da parte. Trascorso il tempo mettere la composta di pere sulla panna cotta. Riporre in frigo per almeno un'altra ora. Panna cotta al parmigiano e pere. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!